Capitolo 22 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 Essi gli risposero di Davide ed egli a loro come dunque Davide parlando per lo spirito lo chiama Signore dicendo il Signore ha detto al mio Signore siede alla mia destra finché io abbia posto nei tuoi nemici sotto i tuoi piedi se dunque Davide lo chiama Signore com'è egli suo figliuolo? e nessuno poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardi più interrogarlo.